ci siamo edo? ci siamo, ci siamo pronti? Scalpetta nuova con l'auto anche di questa vediamo se dura tre mesi dopo non vai a retrituirla come l'altra guarda che sono rotta questo è soffiato quello lì? no, non so se faccio l'altro questo è soffiato quello lì? lo vedi? è soffiato sono le alpaca qui sono le alpaca non è l'ama non è l'ama sono l'alpaca sono le alpaca sono le alpaca mangialo, mangialo ecco quello è tuo quello è tuo quello è tuo se vuoi andare avanti? come va? bene bene iscriviti al nostro canale ciao Ho capito questo, per quello volevo venire, vero te? Questa è la mia farla, fatta nel 2018, dai comuni di Chiusi, Castellrotto e Stazione Turistica. Ah quello sono io. Questo sei te? Stazione Turistica. Grazie per la visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.